Onorevoli Massimo D'Alema e Pierluigi Castagnetti, alla professoressa Silvana Casmietti che è relazione sulla filistra, un saluto particolare al prefetto Valino Maddaloni e ai rappresentanti delle istituzioni e delle autorità militari e civili presenti. Via via che tra due minuti inizierà un filmato che ti percorrà in breve tempo. Il filmato che vedrete durerà pochi minuti e riassumerà la cucina significativa, il contenuto del libro di cui parleremo da qui a breve. La parola alla dottoressa Silvana Casmieri che è docente all'Università di Cassino e che presenterà questo testo addentrandosi nei vari capitoli, nelle varie storie e vicende che vi sono narrate in maniera più specifica e storica. Grazie.